Musica Telefon si ha detto? C'è tipo pai? C'è tipo? Dea La sensazione di casa Dìa la sensazione ragiona Soalnya Soalnya Telefon si ha? Telefon si ha? Lama aja Bisa sampe di si Goa Bentuk dukung se, kepo sampe di Yang tau se urusan orang kepo mana aja Tugas ah Sudah nelpon sama si Dea tadi pres Hah? Sudah nelpon sama si Dea tadi Dia ITP Tunggu 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 Caz Tunggu 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 Cosa? Cosa? Perché non ti chiede? Non ti chiede! Non ti chiede! L'amore! Non ti chiede la loro, non ti chiede la loro! Non ti chiede! Non ti chiede la loro! 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 Non ti chiede! Non ti chiede la loro! 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. 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 C'è un'altra parte! A presto! Per me chiedere No, 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 no. Voi ci avaròi!